Federico II è l'Università di Parigi ed è attualmente docente a contratto di storia medievale ed assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II. Ha pubblicato diversi articoli e saggi sulla storia politico-istituzionale e la cultura cavalleresca nel regno aragonese di Napoli ed una monografia su Re Federico d'Aragona. Si è anche occupato di San Francesco in un suo saggio sul soggiorno a Napoli dell'eremita nel 1483, incardinato su alcune preziose fonti diplomatiche inedite. Russo è stato borsista presso l'Istituto Storico Italiano per il Medioevo ed assegnista dell'Istituto Storico Germanico di Roma, nonché membro del Comitato di Redazione dell'Archivio Storico per le Province Napoletane e della rivista di studi aragonesi Cesura. Cesura. Ecco, quindi c'è anche una ventata di novità ma anche di giovinezza come vedete e anche di innovazione tecnologica perché vedremo anche delle immagini che corroborranno il discorso che farà il dottor Alessio Russo. Prego. Grazie infinite a tutti per la presenza, grazie a Sua Eccellenza Padre Morosini per l'invito, per questa opportunità, grazie anche per la giovinezza che mi è stata attribuita dal professore. Allora io vi ho fornito questo schema perché come potete vedere il corpus di lettere analizzate che è abbastanza sostanzioso. Sono dieci lettere che rappresentano la vera e propria corrispondenza di Francesco con Ferrante d'Aragona e con i pontepici. Sono Sisto IV e Alessandro VI. E poi abbiamo un corpus ausiliario di quattro epistole che toccano i temi delle altre e riguardano Francesco e il suo operato alla corte di Francia. E poi vi ho fornito anche le trascrizioni delle epistole, così possiamo evitare di leggerle. Ci soffermiamo solamente sui nodi concettuali. Alcune di queste, come potete vedere, sono riportate con un raffronto tra diverse edizioni. La prima lettera in ordine cronologico da affrontare è quella di Francesco a Referrante d'Aragona. La lettera fu scritta dal castello di Plessis, cioè la residenza reale del re di Francia, Luigi XI, presso Tour, il 16 maggio 1483. La lettera fu edita per la prima volta nella Centuria del Preste, in una versione poi ripubblicata integralmente anche da Ernesto Pontieri. E' riportata inoltre dal Roberti nel suo San Francesco di Paola, che io ho utilizzato nella seconda edizione. Come scrive Roberti, riprendendo il Preste, l'originale di questa lettera, riportata da quasi tutti i biografi, si dice fosse conservato nell'archivio del convento di San Luigi in Napoli e primo a pubblicarla fu il padre Giovanni da Milazzo, si riferisce ovviamente alla vita del santo composta nel XV secolo dal suo discepolo. Ad ogni modo, non vi sono motivi sufficienti per ritenerla spuria, continua sempre il Roberti, aggiungendo però che qualche dubbio fa nascere la data tradizionale 1482, che non si può ammettere in questo. Siamo tutti d'accordo. In effetti questa data, così come riportata nella centuria, è certamente errata. La lettera era infatti ricondotta al maggio del 1483, un anno dopo. Sappiamo infatti per certo che Francesco giunse a Napoli dalla Calabria solo alla fine di febbraio del 1483 e appunto come si è accennato io stesso ho ricostruito poi in un saggio del 2020 il soggiorno a Napoli nel febbraio del 1483. E da qui l'eremita si imbarcò per la Francia, facendo prima tappa a Roma per qualche giorno. Qui incontrò i cardinali e Papa Sisto IV, quindi questo è il primo incontro con il pontefice, in diverse udienze, anche udienze private. Una volta ripartito da Ostia sbarcò presso Tolone, si diresse a Lione e poi di qui al castello reale di Plessì, dove avvenne finalmente l'incontro con Luigi XI tra la fine di aprile e l'inizio di maggio del 1483. L'antecedente del viaggio è ben noto, ma vale sempre la pena ricordarlo. Nel 1481 il re di Francia era stato colpito da apoplessia e nonostante fosse bene o male riuscito a riprendersi, aveva cominciato a temere quasi ossessivamente per la propria vita e di fatti un anno dopo la malattia lo aveva colpito di nuovo e il sovrano si era rivolto sempre più a rimedi alternativi rispetto alle prescrizioni dei suoi medici di corte. Cosicché messo al corrente dell'attività dell'eremita taumaturgo di Paola, aveva inviato nel regno degli emissari, uno dei quali fra l'altro è il suo maggiordomo, per condurlo in Francia. Si era quindi messo in contatto con il re di Napoli e con il Papa. L'uno era chiaramente il signore laico dell'eremita, in quanto questo era formalmente suo vassallo, suo suddito, e il Papa era ovviamente il suo supremo signore ecclesiastico. Così, dunque, il Papa alla fine era riuscito a vincere le iniziali resistenze del paolano, minacciandolo tra l'altro di severe punizioni, come si intende dai riferimenti contenuti in una missiva inviata dal pontefice a Luigi XI nel giugno del 1483. La data 1482 non è però l'unica alterazione nel testo della lettera presente nella centuria, che, come notava già Ernesto Pontieri, fu altresì rimaneggiata nella forma per adattarla al gusto letterario del tempo. Purtroppo, a differenza della lettera di risposta, scritta a Francesco dal referrante il 17 agosto 1483, la lettera numero 8, di cui abbiamo una copia nella Biblioteca Apostolica Vaticana, edita dal Galluzzi, di questa prima lettera ci resta per ora solo la versione alterata del preste, che oltretutto a sua volta differisce notevolmente in diversi punti da quella presentata nell'opera di Roberti. Ad esempio, nella versione di quest'ultimo, potete fare il raffronto sullo schema, la pace dell'Italia, citata da Francesco, diventa, subendo un'involuzione diciamo napolicentrica, la pace del nostro regno. E manca oltretutto il riferimento nelle benedizioni finali a un personaggio importante, cioè all'illustrissimo principe che in questo caso si riferisce al principe di Squillace, Federico d'Aragona. Soffermiamoci un attimo su questo punto, che mi è tra l'altro caro. Il riferimento a Federico d'Aragona non è di poco conto, nella lettera di Francesco. Principe di Squillace, da poco, egli non era solo un personaggio di spicco nell'architettura politica e istituzionale del regno paterno, ma fungeva anche, potremmo dire, da anello di congiunzione fra questo e la corte francese, che conosceva fra l'altro benissimo, in quanto vi aveva soggiornato due volte. La prima nel 1476, quando aveva fatto ritorno dalla Borgogna, dove aveva militato sotto le insegne di Carlo il Temerario, e la seconda dal 1479 al 1482, quindi un soggiorno bello ampio, e in questo caso il principe aveva sposato a Tur la nipote di Luigi XI, Anna di Savoia, ed era divenuto anche vassallo del re di Francia. Poi c'era stato tutto un contenzioso sull'ottenimento effettivo dei feudi, ma comunque era formalmente un vassallo di Luigi XI. La mossa strategica da parte napoletana non aveva prodotto i risultati sperati, ossia l'ottenimento di una rilevante influenza nella corte di Luigi XI attraverso Federico. In quanto il principe, poi rimasto prematuramente vedovo, era stato costretto a rimpatriare a causa del naspirsi della situazione internazionale. La vedremo tra poco. Di certo, però, gli aragonesi avevano ormai acquisito nella persona di questo Federico un prezioso capitale di relazioni, esperienza, informazioni sulla corte francese. Potremmo affermare che il principe abbia in qualche modo retto, poi anche successivamente, per conto del padre, le fila della diplomazia napoletana oltralpe. Tra l'altro, un importante ambasciatore napoletano in seguito inviato in Francia, Camillo Pandone, a dimostrazione di quanto appena detto, era il maggiordomo personale di Federico. Quindi è lui che regge le fila delle trame di Ferrante d'Aragona in Francia. Non è un caso, quindi, che fosse proprio Federico, il membro della famiglia reale, ad essere messo più a stretto e prolungato contatto con l'eremita paolano prima del suo viaggio in Francia. Possiamo immaginare che il suo compito sia stato, oltre che quello di vigilare attentamente sulla figura del frate, quello di consigliare Francesco e l'agente diplomatico re Nicolo inviato con lui in Francia, ne parleremo, in merito alle dinamiche della corte di Luigi XI. Non è nemmeno un caso, quindi, che successivamente fosse inviato proprio in Francia Camillo Pandone. Ad ogni modo, tornando al confronto della lettera di Francesco con la responsiva di Referrante, quella, la lettera 8 del 17 agosto 83, quest'ultima conferma gli argomenti trattati, tra cui la pace et quiete de questa popera Italia, senza riferimento specifico al regno, come riportava Roberti. Nella lettera di Francesco da Turba, altresì notata l'esortazione finale di governare, la vedete la prima proprio riportata, di governare il regno con integrità religiosa e giustizia verso i sudditi, presentate nella lettera appunto di Francesco come le due colonne degli imperi e delle monarchie. Questo è un argomento su cui vale la pena disoffermarsi. Questa non è un'esortazione generica se la mettiamo in rapporto con Ferrante d'Aragona. È un argomento in realtà molto delicato che mostra, secondo me, la volontà dell'eremita di connettersi appieno con l'ideologia monarchica aragonese. Con l'ideologia monarchica, con la retorica della corte napoletana e anche con la prassi propagandistica e di questa del tempo. La giustizia era infatti, come ha rimarcato per esempio Francesco Storti in una sua densa monografia su Ferrante d'Aragona, il pilastro principale su cui il re di Napoli e la sua corte sostenivano la legittimità del loro governo. Ferrante era, come ha ricordato il professor Cariddi, un figlio naturale, aveva bisogno di altre basi oltre a legittimazione che aveva ottenuto per fondare e stabilizzare il suo governo. Una di queste nella retorica della corte è sempre la giustizia. E in questo la corte napoletana si riallacciava ovviamente alla tradizione robustissima federicianano nel regno. Ferrante d'Aragona fa mettere a stampa nuovamente le costituzioni di Melfi con un atto politico e ideologico importantissimo. e Ferrante si rappresentava soprattutto appunto come un re di giustizia e coinvolgeva peraltro nell'amministrazione e la giustizia più che in qualsiasi altra corte europea del tempo tutta la famiglia reale. I figli del re erano messi a capo dei tribunali provinciali tra cui anche Federico di cui vi ho parlato prima perché appunto bisognava dimostrare che questa fosse una dinastia retta da zelatori della giustizia come si legge nelle fonti del tempo sempre con il rimando federiciano. Gli Aragonesi erano molto attenti dopo tutto anche alla questione religiosa che evoca Francesco cioè la rettitudine del re nel governo del regno rettitudine dal punto di vista religioso. basti citare un passo del celebre De Principe del Pontano il grande umanista Pontano non ha bisogno immagino di presentazioni che era potremmo dire un megafono ideologico della corte aragonese ed era il precettore dell'erede al trono il duca di Calabria Alfonso II e negli anni 60 il 400 Pontano e De Principe scrive ad Alfonso infatti niente vale tanto ad accattivarsi gli animi dei sudditi quanto una reputazione di giustizia sto leggendo la traduzione di Guido Cappelli e di religiosità praticante e certo tutti assumono di buon animo il dominio di colui che sia dotato di giustizia e poi dice quanto poi una fama di religiosità valga ottenere il favore del popolo guardate che spregiudicatezzo tra l'altro lo ha mostrato tuo nonno Alfonso il magnanimo che superò tutti i re dell'epoca sua e di molti secoli precedenti e addirittura scrive il Pontano tanto da non essere superato in ciò neanche dagli stessi pontefici questi sono i due pilastri effettivamente su cui si fondava l'ideologia monarchica aragonese e Francesco si connette perfettamente nella sua epistola con queste idee la responsiva di Ferrante dell'agosto 83 ci informa invece anche sull'atore del dispaccio di Francesco ossia Francesco Galeota poeta e letterato egli fu però anche un esperto uomo d'arme aveva combattuto fra l'altro a Dothranto nella guerra a Dothranto contro i turchi e parte del più ristretto nucleo di uomini di fiducia dell'erede al trono il duca di Calabria che al tempo di fatto siamo negli anni 80 e 400 già era un corregitore dello stato come è stato definito cioè un vicario generale del padre un alter ego del re nel febbraio del 1483 il Galeota era stato pertanto scelto per scortare Francesco di Paolo in Francia insieme a dei cavalieri napoletani e consegnarlo a Luigi 1111 consegnarlo questo è un termine che non uso a caso anche perché si ritrova nei dispacci dell'epoca inediti la sua missione era però ben più rilevante e consisteva in primis come scrive l'ambasciatore sforzesco Branda da Castiglione io riporto qua una parte del dispaccio nel marzo 1483 nel significare al prefato cristianissimo re sarebbe lui in G11 la pace et lega contracta tra la sua maestà et confederati suoi cum la santità del papa passo avanti et la insaziabile ambizione dei veneziani si sta delineando un quadro politico che tra poco spiegheremo bene facendoli intendere che epsi veneziani avevano tirata la santità del nostro signore il papa cum exquisite arte eccetera e per dar oltretutto piena informazione a quello serenissimo re gli ha data la copia del breve apostolico scritto ad veneziani la risposta dell'oro ad epso brevet la contro risposta del pontefice quale tutte abbia ad declarare alla prefata maestà et pregarla per parte sua c'è degna di favorire la causa di ferrara et detucta la serenissima lega queste sono le istruzioni che come riporta l'ambasciatore sforzesco il re di napoli aveva dato a questo suo inviato che va in francia con francesco di paola ora però per chiarire un po' questi punti è necessario un primo excursus diciamo così sulla complessa situazione politico diplomatica del tempo e partiamo dal contesto specificamente italiano poi ci allarghiamo anche alla francia per capire quali sono le relazioni il 13 marzo del 1480 a napoli quindi tre anni prima nel dispaccio di francesco alla presenza fra l'altro degli ambasciatori di luigi undicesimo i rappresentanti del papa di referrante di napoli del duca di milano e della repubblica di firenze e anche della repubblica di siena avevano firmato l'accordo di una cosiddetta pace generale questo accordo poneva fine alla cosiddetta guerra dei pazzi che era iniziata nel 1478 e aveva costituito la prima grave interruzione di una pace sostanzialmente che in italia durava dal 1468 quando le potenze peninsulari avevano rivitalizzato il celebre accordo della lega italica del 1454 lega italica che era considerata il vero spartiacque del 400 italiano è considerata ancora oggi alla storiografia il vero spartiacque del 400 italiano quindi oltre alla conclusione di questa pace nel 1480 Sisto IV Napoli Milano Firenze e Siena avevano stretto anche una nuova lega generale che avrebbe dovuto avere durata 25 anni ciò però non era abbassato a evitare il contemporaneo strutturarsi di due nuovi blocchi contrapposti dovuto soprattutto a una cosa all'insanabile conflitto di interessi geopolitici tra la Santa Sede e la Repubblica di Firenze in particolare diciamo così la politica la geopolitica di Lorenzo dei Medici all'asse Napoli-Firenze la cui nascita aveva determinato la fine di questa guerra dei pazzi e rotto l'alleanza tra il regno di Napoli e lo stato della chiesa perché Lorenzo dei Medici ricordiamo aveva fatto una spedizione diplomatica spregiudicatissima a Napoli con il rischio anche di essere di essere catturato ed era riuscito in qualche modo a mettersi d'accordo con il re di Napoli e quindi a questo asse Napoli-Firenze il Papa aveva a un certo punto risposto avvicinandosi alla grande esclusa della lega di qui sopra Venezia la Repubblica di Venezia Venezia era dopo tutto da tempo in contrasto con il regno di Napoli per questioni inerenti l'isola di Cipro il dominio dell'isola di Cipro la lega particolare fra i due stati cioè fra la Santa Sede e Venezia fu ciclata il 16 aprile 1480 e in questa alleanza finirono per gravitare anche Siena e Genova che erano in contrasto per interessi territoriali ancora una volta con Firenze il 26 luglio quindi c'era stata la conclusione dall'altro lato del campo di una lega particolare contrapposta che comprendeva Napoli Firenze la più interessata ovviamente ma anche Milano dove ormai dominava in qualità di reggente lo zio del duca Giangaleazzo che era appunto Ludovico il Moro con loro c'era anche il Marchese di Mantua che era alleato di Milano in funzione anti-Veneziana possiamo facilmente capire perché guardate dove stava il Marchesato di Mantua aveva il pericoloso vicino veneziano che premeva ai suoi confini si era quindi aperta una fase con questa strutturazione di questi due blocchi contrapposti che la storiografia ha interpretato come un periodo di guerra fredda è un'espressione forte ovviamente anacronistica però rende bene l'idea in senso divulgativo era un periodo percorso a diverse tensioni mai però sfociate ancora in un conflitto aggravate dalle mire espansionistiche tra l'altro del nipote del Papa Girolamo Riario che voleva creare una propria compagine autonoma in Romagna assoggettando le varie signorie del luogo in particolare le questioni territoriali ed economiche che contrapponevano Venezia e Ferrara sarebbero sfociate di lì a poco però in una vera e propria guerra frattanto e questo è importante sottolinearlo mentre maturava questo conflitto mentre ribollivano gli elementi di questo conflitto italiano ad agosto del 1480 un esercito turco aveva conquistato Otranto con gran sorpresa di tutti tranne dei veneziani che intanto si erano accordati l'anno prima già con i turchi avevano siglato finalmente per loro una pace dopo anni e anni di conflitto in cui tra l'altro erano visti insomma perdenti nel Mediterraneo e quindi questo esercito turco aveva conquistato Otranto anche come risposta all'aiuto prestato dal re di Napoli poco prima ai cavalieri gerosolimitani durante l'assedio di Rodi il tragico evento aveva però non aveva però modificato questa situazione italiana che vi ho descritto con questi due blocchi anzi aveva ancora più alimentato il clima di diffidenza ed astio fra i due blocchi Venezia abbiamo detto non si era mossa persino Sisto IV aveva temporeggiato risolvendosi a emanare una bolla in cui esortava i principi cristiani a una guerra santa soltanto nell'aprile 1481 agosto 1480 aprile 1481 la bolla del pavo quindi poco prima proprio della riconquista aragonese della città che avvenne a settembre del 1481 la vittoria come è noto era stata favorita dalla morte del sultano Maometto II e dalle conseguenti lotte per la successione al trono ottomano questo è importante che videro prevalere il figlio Baezid II soltanto nel 1482 il quale si era dovuto prima scontrare sul campo di battaglia con il fratello che poi tornerà nel nostro intervento questo fratello quindi la flotta pontificio genovese che intanto il papa era all'ultimo momento riuscito a mettere insieme secondo i piani di Sisto IV e del re di Napoli avrebbe però una volta anche riconquistata Otranto dovuto proseguire la spedizione contro i turchi e assaltarli nei Balcani alla Valona il tutto però si risolse in un nulla di fatto la flotta torno indietro ci fu un'epidemia scoppiata tra i bandinai in ogni caso i costi economici del mantenimento prolungato di questa spedizione erano intollerabili e insostenibili per una coalizione del tutto al suo interno come abbiamo visto disunita ad ogni modo in Italia nel maggio del 1482 cioè quando Francesco scrive la lettera tutti i nudi erano infine venuti al pettine Venezia aveva dichiarato guerra a Ferrara trascinando nel conflitto entrambi gli schieramenti con i loro alleati e i loro stipendiati quindi i due blocchi si fronteggiano sul campo di battaglia e si fronteggiano duramente la guerra di Ferrara è una guerra durissima dopo aver conquistato Rovigo nella battaglia di Campomorto le truppe veneziane e pontifice erano persino riuscite a abbattere gli aragonesi che intanto avevano minacciato Roma invadendo il Lazio la vittoria però non era stata decisiva e la guerra era entrata diremmo in una fase di stallo spianando ben presto la strada ai negoziati nessuno realmente poteva proseguire questa guerra Napoli tra l'altro le finanze del regno di Napoli erano devastate dalla sua partecipazione prima alla guerra dei pazzi poi alla riconquista di Otranto e adesso a questa guerra contro la superpotenza veneziana perché di quello stiamo parlando Venezia all'epoca è veramente diciamo in Italia la superpotenza dal punto di vista economico e quindi si doveva aggiungere a patti e questi patti si erano conclusi in effetti poco prima della lettera di Francesco il 12 dicembre 1482 quando il Papa aveva sottoscritto con Napoli Milano e Ferrara un trattato di pace e ratificato una nuova Santissima Lega che era aperta formalmente anche a Venezia quindi si pensava di far entrare Venezia in questa Lega e chiudere lì la guerra di Ferrara o guerra del sale come è anche stata chiamata l'alleanza fu però resa nota solo il 30 aprile 1483 un mese prima della lettera di Francesco per questo fra i compiti di Francesco Galeota vi era proprio quello di notificare la ratifica della Lega appena pubblicata l'abbiamo visto prima lui doveva andare dal re di Francia a ratificare questa Lega tuttavia si fa riferimento a una risposta dei veneziani eccetera nel gennaio del 1483 i veneziani avevano consegnato al concistoro una dura risposta alle accuse mosse intanto dal pontefice in cui manifestavano di voler continuare la guerra anche da soli e a marzo avevano prodotto un documento di giustificazioni pubbliche in cui accusavano il papa di essere passato dall'altra parte dopo essere stato diciamo insieme in concorso con loro uno dei fautori della guerra e stabilita una strategia nella dieta di Cremona insieme ai nuovi alleati il papa aveva dunque risposto con un breve del 4 aprile in cui invitava nuovamente Venezia alla cessazione delle ostilità e al ritorno allo stato scuoante dal punto di vista territoriale infine il papa aveva preparato una bolla di censura da emanare in caso fossero fallite le trattative intavolate in extremis dai cardinali veneziani e il 16 maggio quindi questi ultimi negoziati erano già falliti e di lì a pochi giorni Sisto IV avrebbe pubblicato l'interdetto contro Venezia nella celebre bolla ad bonorum tutela in cui fra l'altro si auspicava la costituzione di una lega di tutti gli stati italiani contro Venezia tutti contro Venezia come si è accennato però Venezia non era affatto inerme e subito mise mano a tutte le armi diplomatiche a sua disposizione giocando una partita potremmo dire spregiudicata sullo scacchiere internazionale perché Venezia inizio giugno già inviò i ambasciatori all'imperatore e a Luigi XI di Francia per sostenere la sua innocenza ma soprattutto per sostenere le aspirazioni francesi sul regno di Napoli quindi cercava stava cercando in quel momento di aizzare il re di Francia a intervenire contro Napoli e in più Venezia aveva anche preso a condotta ai suoi stipendi come capitano generale Renato di Lorena Renato di Lorena che era venuto in Italia al soldo di Venezia era pericolosissimo perché lui aveva incamerato i diritti angioini sul regno di Napoli era il pretendente legittimo al trono di Napoli e quindi questo spaventava non poco la corte napoletana perché pensava che la presenza stessa di questo capitano generale di Venezia potesse in qualche modo riattivare nel regno la fazione filo angioina contro Re Ferrante inoltre Venezia aveva cercato di mantenere attiva anche la minaccia turca la minaccia turca però in questo maggio del 1483 per Ferrante è secondaria è un po' sfumata perché nonostante i tentativi di Venezia ad aprile Ferrante è riuscito accogliendo l'ambasciatore del sultano il nuovo sultano è riuscito a siglare una pace restituendo i prigionieri e le armi da fuoco tolte ai turchi ad Otranto quindi Ferrante si è messo le spalle al coperto da questo punto di vista e ciò spiega anche il fatto perché nella lettera al Galeota manchino i riferimenti alla questione del turco soffermiamoci ora però un attimo lo so questo discursus è lungo ma se non si capisce niente delle lettere successive sulla figura di Luigi XI una volta sceso al trono paterno il Valois aveva turbato gli equilibri italiani sostenendo la causa angioina nel regno di Napoli la sconfitta degli angioi e la guerra del bene pubblico in Francia avevano però determinato un cambio di rotta nella sua politica e lo avevano spinto in sostanza ad assumere un ruolo di garante esterno diciamo così dell'equilibrio peninsulare anche durante la guerra dei pazzi che vi ho citato prima nonostante il sostegno a Firenze e a Venezia Luigi si era limitato a condannare l'azione del Papa a usare gli strumenti di pressione economica e diplomatica a sua disposizione per esempio nel 1478 aveva emanato un'ordinanza in cui proibiva che si facessero pervenire a Roma i denari per la collazione dei benefici però più di questo non aveva fatto aveva anche mandato un'ambasceria in Italia per mediare e anche contro Napoli non aveva fatto granché se non minacciare Ferrante d'Aragona ma abbiamo visto aveva accolto persino a corte proprio in quel in quel frangente Federico d'Aragona e l'aveva fatto sposare con sua nipote quindi e anche per quanto riguarda la lotta contro i turchi Luigi XI aveva fatto ben poco era stato chiamato in casa ovviamente da Sisto IV in quell'appello che vi ho detto a tutti i principi cristiani e aveva pure tramite una sua ambasciata in Italia si era reso disponibile a intervenire contro i turchi il papa gli aveva chiesto di imporre una decima sul clero francese questa questione delle decime ritorna dopo e Luigi aveva accettato però poi la missione si era risolta in un nulla di fatto gli ambasciatori francesi erano tornati in Francia e si era ormai capito che questo era solo un temporeggiamento per tentare in qualche modo di salvare la faccia e evitare che gli italiani costituissero un fronte unitario ancora durante la guerra di Ferrara il papa e Venezia avevano provato a sollecitare un intervento diretto francese in Italia però non avevano avuto successo e Sisto IV si era anche reso disponibile persino a concedere questa è grossa al Delfino cioè all'erede al trono di Francia Carlo il futuro Carlo VIII il titolo di gonfalonire della chiesa e l'investitura del regno di Napoli c'era stata una trattativa su questo per bypassare i diritti angioini e dare direttamente questi diritti in mano al re di Francia cioè peraltro li aveva già acquisiti li aveva già acquisiti perché acquisendo appunto l'eredità di Carlo Delmen nel 1481 però c'era appunto la volontà del pontefice di supportare questi diritti e concede l'investitura va anche sottolineato che sul tavolo delle trattative contro Napoli e la sua lega il pontefice aveva messo nuovamente l'autorizzazione a riscuotere le decime in Francia aveva chiesto di nuovo le decime nonostante fosse morto il turco come si legge nelle fonti dell'epoca nell'estate del 1482 re Luigi aveva inoltre visto giungere nel proprio dominio un potente strumento di pressione politica sublitaria e sull'impero ottomano ossia il citato fratello del sultano ottomano fratello ribelle che dopo essersi rifugiato presso i cavalieri gerosolimitani di Rodi era stato da questi condotto di fatto prigioniero in Francia quindi ora era sul territorio francese anche se non a diretta disposizione di re Luigi e il papa stava già tramando ovviamente per acquisirlo acquisire questo importante ostaggio politico da poter utilizzare contro il sultano ottomano tirando le somme nell'ottica della corte pontificia e in misura diversa di quella aragonese l'arrivo in Francia di Francesco di Paola si inseriva in un'ampia manovra diplomatica volta in primo luogo ad assicurarsi il sostegno di Luigi nella guerra di Ferraria anticipando le contromosse veneziane che abbiamo detto stavano inviando un'ambasciata proprio a Luigi affinché questi facesse pressione sulla Serenissima spingendola a scendere a patti con la Lega sullo sfondo della pacificazione italiana come è chiaro dalle parole del frate di Ferrante stesso vi era però anche la prospettiva della defensione della religione cristiana contro il turco intesa però soprattutto la parte pontificia appunto come ripresa di una strategia offensiva nei Balcani infine ancora più implicita vi era per Ferrante d'Aragona l'esigenza di sopire le possibili pretese francesi sul regno finché Luigi fosse rimasto in vita quello che sarebbe successo dopo non si poteva prevedere molte altre seppur di minor rilevanza geopolitica erano in effetti le questioni sul tavolo di Sisto IV facendo leva sulla più che mai ardente devozione di re Luigi vi era infatti l'opportunità di ricevere cospicue donazioni così come quella di riottenere il controllo delle contee del Valentino e di Die nella Francia sudorientale promesse anni prima dal Valois ma mai consegnate alla chiesa quindi c'erano diverse questioni sul tavolo di Sisto IV un po' meno sul tavolo di Ferrante la cui preoccupazione principale era soprattutto quella di fermare i veneziani e in questo quadro Francesco di Paola diveniva allora che cosa un prestigioso dono diplomatico per le Luigi per questo ho parlato di consegnare e le fonti parlano di consegnare l'importanza di questo concetto nell'ottica di rafforzare il proprio ruolo nella vicenda è molto ben rimarcata dal Ferrante stesso nella sua responsiva di agosto 1483 qui infatti si legge che se non fosse stato per la richiesta e l'interesse del re di Francia mai averriamo consentito che vi fosse partito da questo nostro regno quindi lui si attribuisce un ruolo preponderante nella consegna di questo dono un dono dunque quello di Ferrante e del Papa che a sua volta non mancò di sottolineare il suo impegno che era stato ancora più decisivo tra l'altro di quello di Ferrante lo sappiamo bene un dono che collocato nel cuore della corte del sovrano francese sino al capezzale del re poteva divenire anche un utile strumento di mediazione e raccolta di informazioni sulla corte di Francia nonché un polo questo è un concetto su cui vorrei soffermare attorno al quale potevano essere attratti in prospettiva altri personaggi di rilievo in modo da ottenere una più duratura influenza oltre altre rimpinguare in altri termini la fazione filo pontificia o filo aragonese in Francia con due fazioni che ovviamente in questo momento coincidevano quello della lettera di Ferrante ma erano due fazioni diverse con interessi diversi abbiamo detto tra maggio e agosto del 1483 i risultati riscontrabili della variegata azione diplomatica pontificia non parliamo ancora dell'intervento di Francesco e napoletana sono così sintetizzabili pubblicazione in Francia della bolla dell'interdetto ai veneziani Luigi la pubblica pressioni su Venezia da parte di Luigi affinché ritirasse il renato di Lorena dal conflitto italiano la promessa di concessione delle due contee alla chiesa per tramite di Girola Moriario del nipote del papa cospicue donazioni di Luigi XI per le basiliche di Roma e l'invio anche di un'ambasciata francese in Italia per mediare appunto tra i contennenti ogni altro progetto venne però interrotto dalla morte di Luigi XI alla fine di agosto l'effettivo apporto dell'eremita paulano è documentato in due blocchi di corrispondenza quella con referrante composta appunto da questi due dispacci presentati e quella con Sisto IV che consta di cinque brevi del papa datati giugno luglio e agosto del 1483 e di una risposta di Francesco datata 20 giugno come si può vedere nello schema la responsiva dell'eremita è custodita in originale nella biblioteca marciana di Venezia i brevi di Sisto sono invece tutti custoditi in copia nell'archivio segreto vaticano uno dei due brevi è riportato anche da Roberti che però sbaglia la data perché scrive 11 giugno quello è il 2 giugno probabilmente ha sbagliato a leggere il numero romano sicuramente in realtà questo breve viaggio questo breve scusate questo ultimo breve che vi sto dicendo del 2 giugno viaggiò in coppia con un altro cioè sono due brevi gemelli come poi si rileva da un breve pontificio appunto a Luigi XI che è inserito qui nel corpus ausiliario sono due brevi gemelli in cui si intima a Francesco di pregare per il re di Francia per la guarigione del re di Francia però uno diciamo sotto pena di scomunica e uno invece in virtute sancte obbedienza però sono gemelli tanto è vero che il copista ne ha riportato il testo soltanto di uno e poi ha scritto simile sub pena ex comunicazioni ok quindi che cosa ah poi quindi vanno aggiunti gli altri brevi e del corpus documentario ausiliario cosa rilevano queste fonti per quanto riguarda la corrispondenza conferrante e non si toccano argomenti ulteriori rispetto alla pace d'Italia e alla crociata contro il turco tuttavia nella lettera responsiva del sovrano del 18 agosto che abbiamo visto è interessante notare anche il modo in cui si esorta l'eremita a intercedere presso Luigi per la pace et quiete d'Italia il lessico utilizzato è quello precipuo dell'azione diplomatica con il ricorso alle forze spirituali della fede ma anche all'ingegno e alla raccolta di informazioni chi si occupa di studiare le corrispondenze diplomatiche vede quello è proprio il lessico specifico che si utilizzava nelle istruzioni ad esempio agli ambasciatori all'eremita è inoltre accordato ampio margine operativo con la tipica formula delle altre cose ne remettimo a voi insomma nell'impostazione ferrandina Francesco è assimilato a tutti gli effetti a un agente diplomatico del regno al quale viene oltretutto strettamente legato al regno da un vincolo inscindibile di appartenenza ferrande ricorda infatti al frate che i propri sudditi lo considerano un padre e che gli ha concesso di lasciarli momentaneamente dice solo per cause di forza maggiore cioè per venire incontro alle esigenze del re di Francia e quindi questo è importante perché nella lettera è contenuta l'implicita esortazione a Francesco a far poi dopo ritorno nel regno dice i sudditi aspettano il ritorno e questa la dice lunga sull'orizzonte strategico di Ferrante che è diverso da quello pontificio perché Ferrante in maniera lungimirante capisce che il radicamento prolungato di Francesco alla corte pontificia può sortire solo un effetto con i papi è sempre così oggi si è d'accordo con un papa domani se ne fa un altro e non si fa il radicamento di una pedina così importante diciamo così che può fungere appunto da polo di attrazione da gente diplomatico da veicolo di informazioni rilevanti voglio dire poteva essere pericoloso in prospettiva per Ferrante perché il papa aveva tra l'altro il vero potere contrattuale su Francesco con la questione dell'approvazione delle costituzioni della regola quello è il problema Ferrante diciamo non aveva strumenti reali per la protezione dei suoi c'era quello c'era quello ma era sensibilmente inferiore rispetto al potere contrattuale del papa nessun riferimento esplicito ai problemi politici italiani invece è presente nei due brevi di Sisto IV del 2 giugno poi torniamo sulla questione appunto della diplomazia che si limitò a ingiungere al frate di adoperarsi spiritualmente per la recuperazione mincolumitatis maiestatis sue le lettere sono forse frutto dei sospetti manifestati al pontefice da Luigi XI in merito all'operato di Francesco lo rivela fra l'altro il riferimento alle persuasiones que tibi forsan ab alis facte essent in contrarium è difficile ad ogni modo stabilire chi fosse sospettato di remare contro la guarigione dei venti anche la lettera responsiva di Francesco del 20 giugno lascia un rilevante interrogativo egli dichiara infatti di aver ricevuto due brevi dal papa uno è certamente quello del 2 giugno con l'ingiunzione alla preghiera in favore del re ma dell'altro non sappiamo nulla se non che il frate non aveva avuto l'opportunità di attempiere a quanto richiesto e che si dichiarava convinto di poterlo fare in futuro non sapremo mai di che cosa si trattasse ad ogni modo va sottolineato il fatto che l'eremita invii per la prima volta al pontefice con questo breve del 20 giugno con questo epistola del 20 giugno un messaggio dal chiaro contenuto politico facendosi garante della riverenza del sovrano verso Sisto IV e della sua volontà di difendere la fede e la chiesa c'è quindi un riferimento implicito a tutti i possibili nodi delle trattative al loro rincorso fra le due corti cioè fra la Francia e la corte pontificia naturalmente tralasciamo in questo intervento perché non riguarda specificamente le questioni politiche dell'Italia del tempo le questioni inerenti alle richieste di intervento pontificio in favore del movimento eremitico in Francia o di approvazione delle costituziones queste manifestano tuttavia il credito acquisito da Francesco presso Luigi XI che appunto perorò personalmente la causa il breve di Sisto IV a Francesco datato 6 luglio va analizzato invece insieme a una contemporanea missiva indirizzata a Luigi XI e ad una ancora precedente diretta sempre al sovrano già in quest'ultima epistola Papa Sisto rispondeva fermamente al turbamento manifestato da Luigi riguardo l'operato di Francesco il quale apprendiamo che aveva sollevato per conto del pontefice la questione delle decime ve ne ho già parlato prima perché erano state precedentemente richieste dalla Santa Sede il modo inadeguato in cui l'eremita aveva affrontato il delicato argomento aveva oltretutto insospettito il re di Francia che credeva potesse esserci dietro qualcun altro Sisto IV si era allora subito affrettato a fugare ogni dubbio sul proprio conto attribuendosi il merito anzi dell'arrivo dell'eremita in Francia e dichiarando de decima autem nullum anobis verbum factum est e se l'udio il papa pressato da Luigi dovette però tornare sull'argomento tranquillizzando il sovrano ingiungendo per lettera a Francesco di non gravare sulla sua coscienza riguardo alla questione delle decime è significativo il fatto che non vi sia però alcun accenno alla sua estraneità all'argomento nella lettera a Francesco dice solo di non turbare ulteriormente il re di Francia con questo argomento quindi questo ci può anche far nascere il legittimo sospetto che il papa in realtà stesse dissimulando la questione delle decime è molto probabile che ne avesse parlato egli stesso a Francesco e era stato un tentativo il giorno dopo il 7 luglio il papa informò l'eremita che Giovanni Andrea Grimaldi referendario e maggiordomo del papa era stato inviato in Francia costui aveva già conosciuto il re Luigi nel 1478 in qualità di nunzio apostolico ora era accompagnato da un segretario del Valois e doveva in primo luogo consegnare al re come richiesto alcune importanti reliquie che erano custodite in San Giovanni a Laterano la sua ampia e delicata missione comprendeva poi il ringraziamento a Luigi per il denaro donato alla Santa Sede per la ristrutturazione delle basiliche di San Giovanni e San Pietro le trattative per la restituzione della contè di Valentino e del Die l'esortazione a non appoggiare i veneziani nella guerra di Ferrara e quindi la pubblicazione dell'interdetto e infine l'offerta della carica di gonfalonire della chiesa per il sovrano o il delfino di Francia e quindi il compito insomma di Giovanni Andrea Grimaldi non era solo di trasportare le reliquie era un compito politico ben più consistente e quello di Francesco che viene avvertito di questo invio era dunque quello di sostenere l'azione di Grimaldi così come avrebbe dovuto fare parallelamente l'arcipescovo di Tur più di un mese dopo il 16 agosto quando ormai si era svolta anche la missione di questo referendario Sisto IV inviò a Francesco un breve che possiamo definire il primo contenente esplicite direttive di natura politica il breve del 16 agosto è il numero 7 il primo appunto contenente esplicite direttive di natura politica si ordinava dunque al frate di ringraziare a nome del papa Luigi XI per la pubblicazione della Bullam censurarum contra Benetos ma non solo doveva anche esortarlo in previsione dell'arrivo a Tur degli ambasciatori della Serenissima a non concedere gli udienza non prestar fede alle loro giustificazioni o almeno a non prendere alcun provvedimento fino a che non fossero giunti lì anche gli oratori del papa e della Lega questo breve come si è detto segna quindi una netta evoluzione nelle modalità di utilizzo di Francesco come agente diplomatico pontificio frutto chiaramente del consolidamento del suo rapporto con Luigi per un riscontro dello scambio epistolare successivo dobbiamo tuttavia attendere quasi un anno ossia la lettera di Francesco Assisto IV del 20 aprile 1484 che anch'essa è custodita dalla biblioteca nazionale marciana intanto però con questa lettera un anno dopo lo scenario è cambiato scenario è cambiato perché il papa Assisto IV appunto era ormai passato un anno da che era passato alla parte della Lega di Milano Firenze e Napoli la Serenissima riusciva però da sola a tenere testa ancora nella guerra a tutti gli altri stati tanto che era definita immortale e fra i collegati intanto serpeggiava il dissenso sulla strategia comune contro Venezia e per Ferrante si ravvivava inoltre il timore dell'invasione turca c'erano notizie di movimenti nei Balcani e Ferrante temeva che potessero scagliarsi contro di lui quindi si era giunti all'organizzazione di un convegno con gli ambasciatori veneziani da tenersi a Cesena nel prossimo mese di maggio la lettera di Francesco è del 20 aprile ma già era stato organizzato il convegno di Cesena del 20 maggio scusatemi del mese di maggio questo convegno poi lo sappiamo si rivelò tuttavia infruttuoso e la guerra continuò fino alla cosiddetta pace a Bagnolo del 7 agosto del 1484 intanto però in Francia Luigi era morto Luigi era morto e aveva lasciato il regno in eredità a Carlo che non era ancora maggiorenne e che per giunta godeva di scarsa salute e alcuni era anche giudicato debole e di carattere per cui le redini del governo erano di fatto nelle mani della sorella Anna detta Madame la Grande e di suo marito che era stato già luogotenente generale del re di Francia Luigi XI all'inizio dell'84 Costoro avevano fatto una mossa iniziale e avevano convocato gli stati generali a Tur quindi prima ancora dell'incoronazione ufficiale di Carlo e questa assemblea che doveva deliberare anche proprio sulla forma di governo che aveva assunto la regenza era durata alcuni mesi da gennaio al 14 marzo quindi era già conclusa al momento della lettera di Francesco e aveva messo a confronto i rappresentanti del clero della nobiltà e del cosiddetto terzo stato eletti in ciascuna provincia del regno vi erano discusse anche le più stringenti questioni ecclesiastiche e in particolare il clero tranne alcuni esponenti che però erano stati messi in minoranza sostenuto anche dagli altri due ordini aveva richiesto e ottenuto la conferma delle disposizioni della maggior parte delle disposizioni previste dalla prammatica sanzione promulgata da Carlo VII questa era come qualcuno l'ha definita l'inamovibile chiave di volta dell'indipendenza della chiesa gallicana e sottraeva al papa grossi diritti fiscali e giurisdizionali oltre a prevedere il consenso reggio ai suoi decreti e la superiorità del concilio la lettera di Francesco il 20 aprile quando quindi l'assemblea si era ormai conclusa tratta dunque di questo argomento menzionando anche un precedente dispaccio in cui si davano ragguagli sulla situazione in Francia probabilmente proprio a ridosso dell'assemblea ma non possediamo quest'altro documento Francesco ha ormai assunto quindi la fisionomia e il modus operandi di un vero e proprio agente diplomatico pontificio anche Galluzzi scrive che nell'epistola è da notare il linguaggio dell'eremita insolitamente diplomatico e preciso egli rimarca soprattutto la propria diligenza nell'aver trattato con il nuovo sovrano e di suoi consiglieri infine Francesco invia come latore al papa delle deliberazioni di Tur e di alcune altre cosse secrete il suo compagno e l'eremita appunto Baldassare da Spigno e il ruolo di Baldassare da Spigno è centrale è stato ben studiato anche dallo stesso Galluzzi che sottolinea come l'eremita di Spigno già noto nell'ambiente della Curia perché aveva servito come pubblicolario Pio II e Paolo II e conosciuto personalmente da Sisto IV che lo aveva autorizzato a condurre vita eremitica anni prima era la persona più adatta ad assolvere un compito tanto delicato e questo era un dottore inutroque un abile diplomatico negli anni successivi appunto assunse maggior importanza nel 1488-89 venne utilizzato anche come come agente diplomatico sia da Carlo VIII che da Papa Innocenzo VIII occupandosi di negoziare la pace tra Francia Inghilterra così come entrando nelle trattative in corrispondenza con i nunzi pontifici per appunto la consegna al pontifice del fratello ribelle del sultano quindi Galluzzi gli attribuisce tra l'altro un ruolo da protagonista a scapito anche dei nunzi apostolici nella questione della consegna a Innocenzo VIII del fratello del sultano poi tra l'altro Baldassarre sappiamo che negoziò anche la possibilità di una lega tra la Santa Sede e il Regno di Francia in sostanza citando sempre il Galluzzi egli venne a rappresentare una sorta di punto di raccordo tra la diplomazia del re di Francia e quella pontificia la sua attività in quegli anni di conflitto tra Ferrante d'Aragona e il Papa perché in questo momento invece erano in conflitto si pose peraltro in contrasto con gli interessi in realtà della diplomazia napoletana e questo dicevo prima perché noi sappiamo che nell'ottobre dell'88 Ferrante invece aveva inviato in Francia Camillo Pandone che aveva una missione specifica quella di cercare di convincere il re di Francia a non consegnare al pontefice il fratello del sultano anche questo accordo tra la Francia e la Santa Sede non era visto di buon occhio a Napoli quindi questa diplomazia parallela diciamo di Baldassare e Aspigno non è coincidente non è sincronizzata con quella napoletana in questo periodo questo noi sappiamo molto poco realmente della diplomazia napoletana in questo periodo perché la situazione dell'archivio di Stato è quella che è dalle poche fonti che abbiamo però sappiamo di queste missioni in Francia e sappiamo che l'obiettivo era appunto avverso all'operato dei nunzi pontifici e quindi anche di Baldassare che tra l'altro veniva presentato dagli stessi nunzi più che altro come un facente di interesse del re di Francia e così quindi oltre a testare il ruolo di spicco di Baldassare come procuratore di Francesco nelle pratiche per il riconoscimento della congregazione eremitica e si deve ribadire l'apporto fondamentale nella sua propedeutica azione politico-diplomatica azione che probabilmente l'eremita cioè Baldassare curò da dietro le quinte cioè io sono sempre convinto di questo che dietro questi dispacci di di Francesco ci sia questo diplomatico esperto e soprattutto dopo quest'ultimo in cui tra l'altro si presenta la sua missione a Roma perché ha proprio un linguaggio diplomatico precisissimo e quindi questo curò secondo me da dietro le quinte fino alla sua missione a Roma nell'aprile 1484 questi affari in seguito a questa prese poi posizione in prima persona nella diplomazia pontificia e quindi mentre Francesco scompare dalle corrispondenze perché non abbiamo altra sensazione se non molto dopo Baldassare vi entra invece come protagonista l'ultima lettera nota di Francesco anch'essa custodita in originale nella Marciana è del primo novembre 1493 e quindi è diretta al nuovo pontificio a questo punto Alessandro VI il contesto il contesto politico in cui si inserisce ancora una volta profondamente cambiato io mi scuso per questi escursus che sono costretto a fare ma qua viaggiamo su periodi differenti e quindi non è possibile non introdurli e dopo gli accordi di Bagnolo che avrebbero dovuto sancire una pace venticinquennale tra le potenze italiane l'ultimo scorcio del secolo quindicesimo era appunto stato segnato dal lungo conflitto tra Ferrante I d'Aragona e Papa Innocenzo VIII era un conflitto inerente a questioni territoriali ma soprattutto alla questione del censo ecclesiastico che del censo alla chiesa tributo feudale che i re di Napoli teoricamente avrebbero dovuto alla Santa Sede ma che Ferrante si era rifiutato sempre di corrispondere formalmente risolte con un accordo nel gennaio 1492 queste però tensioni si erano riaccese poco dopo perché quando era salito sul soglio pontificio Alessandro VI per via dell'appoggio questa volta di Ferrante agli Orsini nel Lazio c'è una questione molto complessa riguardante l'acquisto di Cerveteri e Anguillara comunque sintetizzandola a grandi linee Ferrante appoggiasse il Papa temeva che Ferrante appoggiasse gli Orsini che erano a lui avversi nel Lazio ma questa era una strategia di lungo corso i sovrani napoletani avevano sempre tentato diciamo così di far leva sui baroni laziali in funzione anti-pontificia soprattutto per mettere pressione eh chiaro per sempre la pressione il fiato sul collo quello è così come d'altronde i pontifici si appoggiavano ai baroni regnicoli chiaramente per mettere pressione sul re di Napoli il raggiungimento di una rinnovata armonia tra Alessandro e il sovrano napoletano era sembrato infine possibile attraverso il legame matrimoniale e la concessione di feudi regnicoli ai figli di Alessandro VI Borgia ma a turbare definitivamente gli equilibri peninsulari perché se Sisto IV aveva fatto una politica nepotista Alessandro VI era diciamo proprio l'apice di questo e quindi a turbare definitivamente però gli equilibri peninsulari era intervenuto lo spregiudicato Ludovico il Moro col senno di Polo il quale si sentiva minacciato dalla politica arragonese a favore del duca Giangaleazzo e dall'eventualità della formazione di un asse Roma-Napoli quindi Ludovico il Moro era preoccupato da quest'asse Roma-Napoli che si poteva formare e aveva così portato il pontefice dalla sua parte trascinando gioco forza anche Firenze che era ormai privata diciamo del governo di Lorenzo de' Medici governo non legittimo era un cripto signore Lorenzo de' Medici e Venezia li aveva trascinati in una nuova alleanza esclusiva cioè era tenuto fuori il re di Napoli nota come lega di San Marco nel 25 aprile 1493 perché era il giorno di San Marco il blocco alleato lasciava così il regno di Napoli in un pericoloso isolamento indurre Venezia in questa lega era stata soprattutto la minaccia di un intervento francese istigato da Ludovico il Moro che aveva ora il dominio anche sulla base navale di Genova la Francia era già stata chiamata in causa appunto dal Papa Innocenzo VIII contro Napoli ma ora le cose stavano diversamente perché Carlo VIII era ormai autonomo nel governo aveva sedato il fronte interno e soprattutto con un triplice colpo diplomatico si era garantito la copertura internazionale utile a invadere e a portare a termine la sua impresa la chimera di Carlo VIII come diceva come scrive Bianchini si era infatti accordato con l'Inghilterra con i sovrani spagnoli e con lo stesso Asburgo tra l'altro l'accordo con i sovrani spagnoli del gennaio del 1993 era stato portato avanti anche nelle trattative aveva avuto un ruolo importante Bernard Boil si pronuncia così? Boil che era chiaramente un minimo questo accordo aveva tenuto però fuori Ferrante che invece si aspettava la protezione dei parenti iberici cioè si aspettava banalmente di essere inserito nelle clausole di questo accordo con il re di Francia questo non era avvenuto anzi scorrendo le istruzioni di Ferrante Ferrante era ancora convinto ad accordo avvenuto che questo fosse andato insomma in fumo quindi venne a sapere tardi di questa cosa e quindi non ci fu un contatto attraverso Boil con Francesco e poi con la corte napoletana su questo non ci fu per quanto riguarda i rapporti con Roma Carlo non aveva ancora inviato i suoi rappresentanti e questo è fondamentale a prestare obbedienza ad Alessandro VI questa era una strategia proprio per premere su Alessandro affinché abbandonasse la politica filo-aragonese e in prospettiva gli concedesse finalmente questa investitura del regno e a questo fine aveva mandato a Roma il fidato per Ron De Baschi nel mese di agosto però non aveva ottenuto risultati il riconoscimento della successione sulla cattedra di Pietro era certo un problema spinoso per il Borgia in quanto un gruppo di cardinari ostili tra cui il potente Giuliano della Rovole si era rivolto proprio al re di Francia per ottenere la convocazione di un concilio in cui deporre il pontefice accusato di manovre simoniache durante il conclavo a buon diritto tra l'altro in questo contesto va letta l'approvazione di Papa Alessandro VI il 26 febbraio 1493 della regola di Francesco la possiamo interpretare fra le altre cose anche come una mossa diciamo così per acquisire un appoggio diplomatico ulteriore nella corte francese e infatti immediatamente Francesco risponde poco dopo Francesco risponde a questa approvazione la sua lettera è proprio una risposta a questo mentre Ferrante d'Aragona aveva stabilito di inviare nuovamente un'ambasciata in Francia guidata ancora una volta da Camillo Pandone Alessandro VI non si risolveva però a giocare tutte le sue carte diplomatiche nel novembre 1493 erano peraltro giunte lettere molto allarmanti a Napoli dalla Francia e il re le aveva a sua volta inviate in copia a Roma per convincere il papa diceva che le cose de Franza non erano frasche riattivato personalmente Alessandro VI ancora temporeggiava sul prendere la via di un'azione diplomatica più netta in Francia riattivato personalmente nello scacchiere diplomatico dall'approvazione della regola quindi Francesco indirizza al pontefice una lettera che entra nel merito delle questioni politiche del tempo il frate testimonia infatti seppur indirettamente la risolutezza del re di Francia nel perturbare la pace d'Italia anche se non lo dice esplicitamente però dice le cose quasi stanno mettendo male e a quello si riferisce non come qualcuno ha voluto interpretare diciamo alle pressioni secondo me dei baroni e esuli napoletani alla corte francese perché qualcuno ha interpretato questo passaggio questo qui sia buona pace fra gli principi e signori come un riferimento principi ai baroni napoletani alla corte francese ma no perché questo diciamo così nel formulario dell'epoca non si riferisce avrebbe forse avrebbe potuto dire ai sudditi o ai vassalli ma non principi e signori si riferisce diciamo alle varie forme di governo in quel momento dell'Italia ed Europa e quindi il Papa testimonia diciamo così l'inasprirsi della situazione nella corte francese riguardo agli affari italiani cioè l'impresa di Carlo verso Napoli e invita pertanto all'azione suggerendo al Papa che cosa esplicitamente uno buono rimedio che lui suggerisce possa essere l'invio di un abile ed esperto legato in ciò l'eremita appare sincronizzato quindi stavolta perfettamente con la parallela strategia di Ferrante d'Aragona che voleva proprio la mediazione in quel momento del Papa nella corte francese la parte finale della lettera riguarda invece la raccomandazione dell'eremita francese Pietro Gebert diretto a Roma il quale viene presentato come molto grato per soe virtù alla serenissima maestà del re di Francia Francesco offre dunque nuovamente alla Santa Sede come già era accaduto con Baldassarre da Spigno un'utile risorsa per le trattative diplomatiche chissà se non avesse in mente che questo nunzio potesse essere proprio Gebert questo legato una risorsa o comunque accompagnare il legato perché non poteva esserlo direttamente una risorsa frutto dell'ormai profondo radicamento degli eremiti alla corte di Carlo VIII che peraltro venivano proprio in quei frangenti osteggiati ecco questo è importante da alcuni esponenti del clero regolare francese la missione di Pietro riguardava probabilmente infatti anche la difesa del nuovo ordine dal momento che a Tour si sarebbe di lì a poco 12-15 novembre tenuta per volontà del sovrano una assemblea generale che era volta alla riforma della chiesa di Francia e in questa assemblea quindi si prevedeva probabilmente potessero nascere degli attacchi delle minacce per lo stesso ordine quindi l'interesse dell'ordine si salda all'interesse della pace d'Italia in questo caso e quindi qui terminano proprio i dati ancorati alle fonti a queste fonti a questo epistolario che cosa dire in conclusione l'epistolario conferrante l'aracone e la santa sede ci permette di cogliere i passaggi e le modalità dell'evoluzione di Francesco da taumaturgo al capezzale del letto del re morente a stabile centro di gravitazione della complessa diplomazia internazionale nella corte di Francia uno dei vari centri di gravitazione ovviamente della diplomazia internazionale un'analisi ad ampio raggio sulla documentazione diplomatica oggi in nostro possesso ci consente altresì di specificare che questo strumento per quanto ci sia dato appunto sapere ad oggi fu utilizzato principalmente a beneficio del re di Francia e della corte pontificia perché abbiamo visto in certi passaggi l'azione diplomatica degli eremiti si pone diciamo così in una direzione diversa anche rispetto alla diplomazia napoletana ulteriori ricerche archivistiche sulle fonti diplomatiche relative al contesto francese che io ho intenzione di andare a vedere potrebbero forse gettare nuova luce sui finora sostanzialmente insondati sviluppi di questa trama e qui mi taccio grazie bene abbiamo ascoltato una bella relazione e quindi ci complimentiamo con il dottor Russo per questo studio che ha fatto molto interessante molto importante negli anni 60 mi pare che Igino Giordani scrisse una biografia di San Francesco di Paola dal titolo emblematico un'eremita in una reggia e pari pari ci ritroviamo alla fine lo scriveva con intenti diversi a geografici però si può traslare nella realtà storica del tempo come è stato fatto in questo caso dal dottor Russo quindi è una cosa molto interessante e molto bella è stato parlato il padrino del figlio di Carlo Tau certo sì sì certo sicuramente Ferrante aveva dei suoi strumenti di contrattazione però è evidente che a un certo punto l'azione dell'ordine è quella dell'ordine della congregazione poi dell'ordine e quella di Ferrante non coincide in quel passaggio lì della seconda metà degli anni Ottanta non coincide si deve scavare bene ancora nelle fonti diplomatici sono delle prospettive di interiore sono delle prospettive può essere anche smentito questo quadro però certo sì 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 come l'ordine l'ordine giustamente Ludovico il cuore ostacola la politica lagonese perché ha paura in quanto lui è un usurpatore lui è un usurpato il giugato di Milano che apparteneva al nipote di Ferrante al nipote acquisito perché Gian Galeazzo che doveva sottentare al padre aveva sposato in una politica di alleanza matrimoniale aveva sposato la nipote di Ferrante e quindi Ferrante appoggiava questo suo nipote acquisito a cui invece Ludovico il Moro voleva sottrare e di fatto poi lo sottrae probabilmente lo fece anche avvelenare non si sa tra uno dei motivi su cui si poggiava la politica di Ludovico il Moro era che questo Ferrante che si era sposato giovane non aveva figli e allora dalla corte lagonese per poter sollecitare questo c'è la bella lettera per poter sollecitare questo giovane si parlano delle non più donne le quali vanno a corte e dice che donne in poco riescono a fare in modo che la moglie ti vede ti manca in cinta e poi avrai coperto lì un figlio se la noto di colore c'è i rapporti che ci sono c'è anche a livello politico che se questo non aveva un figlio significava che non era in condizione di poter neanche avere una discendenza invece questa missione di queste tre le non più donne non ottiene il successo che si sperava ecco questa è una nota si ha passato si si poi molto interessante quello quello che diceva quindi il dottor Russo il ruolo politico svolto da Francesco la corte però c'era qualcuno dietro di lui anche che lo guidava padre Baldassarre inizialmente Baldassarre ma sicuro cioè quelle lettere ma successivamente anche il padre Boil e poi Boil perché sono le due figure ed è significativo che Boil porta a termine l'accordo essenziale per Ferrante cioè quello dell'accordo il Sanudo per esempio c'è una lettera interessantissima quindi interessante molto bene va bene l'evocazione poi dei Borgia che è stata fatta ci introduce nell'ultima relazione di questa sera di questa mattina che verrà tenuta da Fra Fabrizio Formisano una cosa su un'altra nota così la Fabrizio Formisano era stata sposata in seconda e terza notte con un tibote di Ferrante del quale Cesare Borgia e Duda Valentina era così geloso che a un certo punto l'ha fatto trangolare c'era una polpa tra Alessandro e il Borgia e il Ferrante si andava per le spicce insomma vorrei ringraziare molto particolare questo perché questo riguardo politico che c'è a Dastro e a Ducene è molto interessante e importante perché forse nella storiografia dell'ordine questo è stato troppo tempo assente ha cominciato un po' di Galuzzi ma Galuzzi non c'è dato quello sguardo anche sulla politica europea e italiana come c'è l'ha prospettato di Silvuso io credo che dopo la pubblicazione degli altri si ospitano gli studiosi può dire una cosa diversa in immagine di studiografia sì 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 allora ascoltiamo adesso Fabrizio è nato a Palermo è giovanissimo possiamo dire quando è nato sì è nato nel 1993 diplomato e abilitato geometra nel 2012 e 14 è entrato nell'ordine dei minimi nel 2016 ad oggi sta concludendo il ciclo istituzionale in sacra teologia presso la Pontificia Università Lateranese di Roma segretario della scuola di spiritualità minima attiva dal 2021 sbaglio? sì sì segue e collabora con Monsignor Morosini nei suoi studi sull'ordine dei minimi e il santo Paolano allora due lettere ad Angela Cesarini ed una lettera a Jean Deschamps Deschamps e l'argomento della relazione prego grazie grazie a anzitutto a Monsignor Morosini che mi ha invitato ad essere parte attiva di questo convegno certo io sono il topolino davanti a giganti così illustri e grazie anche alla fondazione San Bernardino gli elefanti hanno paura dei topolini quindi no non volevo dire questo erano le proporzioni grazie anche alla fondazione San Francesco di Paola perché queste giornate sicuramente segnano un passo in avanti nella conoscenza delle fonti minime e nell'approfondimento di queste fonti per quanto concerne i testi che mi sono stati affidati da padre Morosini che sono tre una lettera ad Angela Cesarini del primo settembre 1501 una lettera a Paolo Margani e Angela Cesarini del 15 gennaio 1503 e una lettera a Jean Deschamps del 23 maggio 1505 procederò in quattro passaggi secondo quattro passaggi in prima istanza cercherò di focalizzare per quanto è possibile i destinatari delle emissive passerò poi alla contestualizzazione storica del testo in terza fase analizzerò i contenuti più evidenti del testo e per ultimo cercherò di evidenziare i possibili collegamenti e concordanze che le lettere hanno con altri testi delle fonti minime alla fine di ogni analisi poi ho inserito una scheda per rendere più agevole la lettura e lo studio dei testi dove sono riportati i risultati più importanti di questa mia riflessione fin da ora mi sembra doveroso dire che questo schema che ho usato come analisi non ha portato frutti in tutte e tre le lettere in modo copioso ma si delineano quali possono essere ancora gli ambiti di ricerca e i terreni dove andare ad approfondire la prima lettera è quella appunto ad Angela Cesarini del primo settembre 1501 è l'ottantaquattresima della centuria del padre preste ed è scritta da TUR firmata da San Francesco che si dice povero vostro e questa è importante come la firma è importante perché poi vedremo come nel terzo testo quella Jean de Chambre indica che c'è una differenza di testi una differenza sostanziale di testi la leggo velocemente così per avere il testo in mente devoto a Gesù Cristo umilmente mi raccomando per da qua è venuto Messer Andrea a vostro fedele cappellano il quale mi ha donato buona relazione di vostra signoria e di molti nostri frati ringraziatosi a Dio che vi ha donato tanta grazia bene possiate stare infine che facciate opera di detto bene noi vi confortiamo di perseverare alla dottrina del nostro Redentore specialmente adesso che state il logo di viduità che è santa vi esortiamo che abbia pazienza nelle avversità di questo misero mondo perché stiamo come peregrini che sempre passa cammino col suo viaggio così noia la morte ed è di necessità di ne ricordare all'odetto di San Giovanni che dice beati li morti che moreno con lo Signore si è a dire di pigliare pazienza contro l'avversità e malattie ringraziando Dio che gli piace visitare dei suoi beni spirituali così come fa la buona madre che castiga lo suo caro figliolo quando sa cosa che gli dispiace così è lo nostro maestro Signore Gesù Cristo quando facemmo cosa che gli dispiace mi corregge e mette allo cammino di salute benché vostra Signoria non ha necessità di tutte queste cose perché siete scesa da gente di lodabile sangue e dottrina di savie persone non altro per lo presente se non che Dio vi voglia donare lo suo amore in questo mondo e paradiso infine scritto a Turso a lì 1501 prima di settembre e poi c'è un post scrittum vi mando una corona di paternostri e una candela benedetta Angela Cesarini per quello che ci è dato poco conoscere sappiamo che era della nobile casata dei Cesarini una famiglia molto importante nella Roma del XIV e XV secolo nacque da Gabriele I Cesarini e Giuliana Ogulina Colonna e fu sorella del celebre Cardinale Giuliano II Cesarini oltre che di Paola e di Lavinia si sposò per rafforzare i rapporti tra i casati ed interessi economici con Stefano Margani da cui ebbe un unico figlio Paolo che sarà destinatario anche della seconda emissiva all'epoca della Lettera quindi settembre 1501 era da poco diventata vedova sulla data della sua nascita e della sua morte non c'è pervenuta alcuna notizia sappiamo però che Angela donò al fratello Cardinale il giardino addiecente la chiesa di San Pietro in vincoli inclusa poi nel palazzo Cesarini sarebbe quel terreno su cui oggi sorge il convento di San Francesco di Paola e Monti che poi è pervenuto grazie alla donazione del sacerdote Giovanni Pizzullo ai frati minimi di Sant'Andrea delle Fratte con il vincolo però la donazione era vincolata alla costruzione di un convento con chiesa annessa dove si potessero formare i frati calabresi gli studenti calabresi è lecito domandarsi come Angela Cesarini abbia conosciuto il Santo Eremita calabrese in questo frangente possiamo postulare tre ipotesi che al momento però non hanno alcun riscontro documentale nella prima gioco un ruolo di grande importanza il Cardinale Giuliano II Cesarini che è nato nel 1466 muore nel 1510 mi soffermo brevemente su questa figura divenne Cardinale nel settembre del 1493 per volere di Alessandro VI di cui fu molto amico già nel 481 il futuro Papa Borgia concesse la figlia illegittima Girolama in sposa a Gianna Andrea Cesarini che era fratello o nipote del Cardinale segno di un'amicizia che voleva raggiungere radici profonde poi Alessandro VI adornò il Cesarini di numerose e prestigiose cariche gli concesse il titolo Cardinalizio di Sant'Angelo il Castel Sant'Angelo e lo fece al ciprete della Basilica di Santa Maria Maggiore i successivi pontefici Pio II e Giulio II non ebbero minor riguardo nei suoi confronti Giulio II nel 505 gli concesse addirittura l'abbazia di Nonatola queste scarne informazioni ci bastano per fare comprendere come la famiglia Cesarini e per tramite del Cardinale Giuliano II e per le varie parentele create con le altre famiglie di Roma fosse ben radicata in Roma e avesse contatti molto stretti col Palazzo Apostolico la notizia di maggior rilievo in quest'analisi è che quando Carlo VIII durante la sua discesa verso Napoli transitò per Roma facendo il suo ingresso nella città l'ultimo giorno del 1494 il Cardinal Cesarini non sappiamo per quale ragione fu l'unico fra i cardinali che gli resero omaggio ad essere ricevuto il 2 gennaio 1495 con i riguardi dovuti al suo rango avviene questo ci è raccontato dal Bucardo che era cerimoniere assistente del Papa mentre Carlo VIII si sta avvicinando a Roma il Bucardo lo informa su quella che era la procedura il cerimoniale che doveva mettere in pratica quando i cardinali sarebbero andati da lui a salutarlo ma i giorni seguenti Carlo VIII arriva il 31 di dicembre del 494 i giorni seguenti il primo gennaio e il 2 gennaio i cardinali che lo vanno a salutare non vengono accolti dal soprano da Carlo VIII l'unico è il cardinale appunto Giuliano II Cesarini che viene accolto fin dalle scale del palazzo dal sovrano questa notizia non ci è detta però dal Bucardo perché fra il Bucardo e il cardinal Cesarini non scorreva buonsangue per via del palazzo di Piazza Argentina il Bucardo abitava quel palazzo mentre il cardinal Cesarini lo rivendicava come proprietà della famiglia Cesarini quindi una prima ipotesi è che il gancio fra San Francesco e la famiglia Cesarini possa essere appunto questa amicizia che questa conoscenza tra Giuliano II Cesarini e Carlo VIII una seconda ipotesi è quella che tiene conto del rapporto che può essere nato presumiamo sia nato tra il cardinale Cesarini e il cardinal Guilermo Bricone di Tur vescovo di San Malò e consigliere del re creato cardinale proprio da Alessandro VI su volere e insistenza di Carlo VIII il 16 gennaio 1495 anche in questo caso nel diario del Bucardo viene raccontata tutta l'insistenza che Alessandro VI fa per la nomina di questo cardinale e la procedura che viene svolta per questo conferimento della porpora certamente il Bricone conosceva San Francesco visti i suoi incarichi all'interno della corte francese sotto Luigi XI fu sovraintendente alle finanze per la provincia di Lingua d'Oca Normandia ed Oltresenna poi fu segretario del tesoro con Carlo VIII che lo elevò al primo posto nel Consiglio di Stato e che si fece convincere dal Bricone con l'ausilio di Antonello da San Severino principe di Salerno e da Bernardino principe di Bisignano a intraprendere la campagna d'Italia questo secondo quanto ci dice Francesco Gucciardini nel suo testo non è da escludere allora che il Bricone considerato anche l'ingente Brissonet allora che considerata anche l'ingente somma che donò intorno al 1502 per l'ampliamento dell'unico convento minimo dell'Urbe ben 1700 scudi d'oro e che realizzò diverse opere per la Chiesa per l'altare maggiore della Chiesa come la costruzione del Coroligno e il posizionamento delle vetrate nell'abside sia stato un divulgotore della figura del Paolano all'interno del collegio Cardinalizio e quindi abbia favorito questa conoscenza ultima ipotesi quella più scontata che non va esclusa è quella che Angela Cesarini abbia conosciuto di persona San Francesco durante il suo soggiorno romano del 1483 a sostegno di questa ipotesi può essere letta la frase contenuta nella seconda missiva oggetto di questa riflessione San Francesco scrive nel 1503 ad Angela Cesarini e Paolo Margani questa frase ringraziamo la provvidenza della Santa Trinità che per sua misericordia ci ha concesso di ci unire insieme in casa vostra questa frase considerato il titolo della seconda il tono della seconda lettera potrebbe condurre all'idea che San Francesco sia stato ospite o almeno sia passato da casa Cesarini Margani però su questo rimane ancora l'alone del dubbio che va dissolto la lettera del Paolano dicevo che è datata primo settembre 1501 ed è indirizzata quindi a una nobile donna romana vedova benefattrice dell'unico convento minimo presente nella città di Roma quello della Santissima Trinità al Pincio è opportuno inquadrare l'opera svolta per inquadrare l'opera svolta dalla Cesarini che ci rimane ignota ricordare le date più importanti che riguardano questo convento al fine anche di poter verificare e giustificare l'asserzione che dice che la lettera al 99% è autentica per farciò mi rifaccio allo studio condotto nel 2005 dal compianto padre Rocco Benvenuto intitolato i minimi nello stato pontificio la fondazione dell'eremo della Santissima Trinità in Roma sappiamo che i minimi per 1500 fiorini 80 ducati d'oro comprarono il vigneto del Pincio il 20 marzo 1494 con atto rogato dal notaio Ugolino De Mattei del clero di Parma scopo di tale acquisto che fu possibile grazie all'intervento dell'ambasciatore del re di Francia presso la Santa Sede che interessò altri cardinali perché prestassero ai minimi i fondi i minimi aspettavano che il re dalla Francia mandasse la somma di denaro poiché tardava ad arrivare l'ambasciatore di Francia interessò questi altri vescovi e cardinali affinché prestassero il capitale per fare l'atto che poi sarebbe stato restituito al momento dell'arrivo della donazione dalla Francia l'interesse era quello appunto di fornire alla congregazione che da poco aveva ottenuto l'approvazione della regola il 26 febbraio 1493 una sede stabile da cui di sbrigare gli affari presso la curia romana padre benvenuto nello studio che citavo poco fa scrive avendo la congregazione dei minimi restituito i soldi ai tre ecclesiastici francesi nei tempi stabiliti ed essendo entrato in possesso della vigna San Francesco poté procedere al passo successivo rappresentato dalla domanda ad Alessandro VI di ottenere la conferma per la reggia donazione e l'autorizzazione a edificare il convento a Roma la supplica fu presentata alla segnatura apostolica il 21 febbraio 1495 quindi quando Carlo VIII aveva già da alcune settimane lasciato Roma per andare a Napoli e fu letta alla presenza del Papa ottenne il suo assenso e fu sottoscritta dal cardinal Giovanni Antonio di San Giorgio vescovo di Alessandria e preside della segnatura apostolica di Grazia la consagrazione della chiesa però avverrà soltanto un secolo dopo il 9 luglio 1595 da parte del cardinale titolare della chiesa alla fabbrica dell'eremo fu inviato per dirigere il cantiere Padre Binè che poté contare su una struttura già esistente che era stata restaurata dal defunto Ermolao Barbaro ambasciatore della Senerissima presso la Santa Sede che era il precedente proprietario del vigneto le uniche informazioni che presediamo circa lo stato di avanzamento della costruzione del convento sono la menzione che San Francesco fa della struttura conventuale nella seconda stesura della regola approvata nel maggio del 1501 in essa al capitolo decimo si legge inoltre nel capitolo generale come sembrerà opportuno secondo la diversità delle nazioni si potranno eleggere uno o più religiosi timorati con residenza nel nostro convento di Roma a meno che non vi siano cause che lo impediscano i quali sappiano sbrigare diligentemente gli affari dell'ordine ciò è indice che al maggio del 1501 periodo prossimo alla lettera che stiamo analizzando esisteva una struttura che poteva permettere l'alloggio di un gruppo numeroso di frati la seconda menzione è quella detta e contenuta nelle prime righe della lettera che ho letto all'inizio ovvero che San Francesco scrive che è passato Messera Andrea che ha dato buona relazione della signora Angela Cesarini e di molti nostri frati vuol dire che la comunità romana già contava di molte persone di molti frati una terza menzione che indica che il cantiere e la struttura era in fase di ampliamento e non in definizione è quella contenuta nel secondo testo oggetto della nostra analisi ovvero la lettera Paolo Margani del 1503 due anni di distanza rispetto alla prima del 501 dove San Francesco invita Paolo Margani e la Cesarini ad essere testimoni di atti di carità presso gli altri nobili romani affinché crescesse appunto l'attenzione che i romani davano a livello appunto di carità nei confronti dei frati quindi la struttura aveva bisogno di ingenti capitali per essere ultimata o essere ampliata un'ultima informazione è quella che riguarda la celebrazione che ci previene dagli atti della celebrazione del primo capitolo aperto il primo capitolo generale dell'ordine apertosi il 28 dicembre 507 i patri capitolari visitato il convento e la chiesa ritennero opportuno che l'unico luogo dove celebrare l'assise capitolare era il refettorio il notaio Giambattista Carbone che partecipa al capitolo in qualità di scribba nel redigere il verbale e giustificare questa scelta sottolinea che la chiesa non era in grado di accogliere i 63 padri capitolari quindi la chiesa non era ancora ultimata e non era abbastanza grande tutte queste informazioni ci permettono di capire che il fondatore dei minimi invia la missiva ad Angela Cesarini e così anche quella che poi analizzerò dopo a Paolo Margani per confortarla vista la perdita del marito ma lo fa anche nel preciso momento storico in cui l'ordine ha bisogno di operosi procuratori che gli permettano di muovere i primi passi i passi necessari a rafforzarsi ed affermarsi e così si restituisce l'immagine di un San Francesco che non sfrutta i propri benefattori ma unisce l'azione pastorale quindi di conforto verso la necessità che stava la sofferenza che stava provando la Cesarini unisce all'intenzione pastorale anche quella dell'ampliamento e rafforzamento dell'ordine passando alla lettera ritengo che questa missiva ad Angela Cesarini sia uno dei pochi testi delle fonti minime oggi in nostro possesso che mostra in modo esplicito alcuni contenuti del pensiero spirituale di San Francesco elementi che poi traspaiono anche da altri testi ma che in questo caso sono dati direttamente da San Francesco e non dalle testimonianze di terze persone come avviene nei processi per la canonizzazione anzitutto si evince un San Francesco che è un uomo radicato nella Sacra Scrittura dicevo che il testo ha lo scopo paterno di voler incoraggiare una figlia che si trova nel momento della sofferenza ma è impregnato di citazioni bibliche che veicolano i messaggi più importanti che il santo vuole trasmettere il primo è quello di fuggire il mondo considerandosi pellegrini in cammino verso la patria celeste e quindi rifiutando non solo le trappole mondane ma anche le avversità del mondo il paulano scrive vi esortiamo che abbia pazienza e l'avversità di questo misero mondo perché siamo come peregrini che sempre passa cammina col suo viaggio che richiama la prima lettera di Pietro capitolo secondo versetto 11 che scrive carissimi vi esorto come straniere e pellegrini poi riportato anche questo passo nella redazione della regola il secondo messaggio è quello di perseverare nell'operare il bene certi che la ricompensa celeste giungerà al termine della vita scrive San Francesco ringraziamo Dio che vi ha donato tanta grazia bene possiate stare infine che facciate opera di detto bene continua poi concordare allo detto di San Giovanni che dice beati li morti che moreno con lo Signore citazione esplicita della Sacra Scrittura e continua poi dicendo non altro per lo presente non che Dio vi voglia donare lo suo amore in questo mondo è paradiso alla fine che richiama l'apocalisse di San Giovanni Apostolo capitolo 14 versetto 13 che recita così e udì una voce dal cielo che diceva scrivi d'ora in poi beati i morti che muoiono nel Signore sì dice lo Spirito essi riposeranno dalle loro fatiche perché le loro opere li seguono il terzo messaggio spirituale è quello di considerare le malattie e le avversità come beni spirituali che concorrono alla conversione alla salvezza dell'anima questo passo richiama che nella lettera San Francesco nella lettera scrive sì e a dire di pigliare pazienza contro le avversità e malattie ringraziando Dio che le piace visitare dei suoi beni spirituali come fa la buona madre che castiga lo suo figlio quando sa cosa che gli dispiace così il nostro maestro Signore Gesù Cristo quando facemmo cosa che gli dispiace ci corregge e ci mette allo cammino di salute richiama tre passi della scrittura proverbi 3 versetti 11-12 Apocalisse 3-19 ed Ebrei 12-7 un quarto passaggio un quarto messaggio è quello della santità della vedovanza che può essere letta è vero che non possiamo considerarla una citazione della Sacra Scrittura perché è molto stringata sono proprio due parole però può essere letta in ausilio al testo di San Paolo la lettera che San Paolo scrive a Timoteo dove si esorta ad onorare le vedove quelle che sono veramente vedove e che sono rimaste sole perché hanno messo la loro speranza in Dio ma su questo fatto della santità più avanti lo approfondirò della santità della vedovanza più avanti lo approfondirò quindi un San Francesco che conosce bene la scrittura che l'ha interiorizzata che non conosce soltanto il Vangelo ma fa riferimento anche all'Antico Testamento e agli altri scritti neotestamentari più avanti si restituisce l'immagine di un San Francesco capace di relazioni interpersonali che custodiscono il rispetto dell'interlocutore in particolare del suo rango di appartenenza e della sua storia personale non chiede il ruolo che riveste nella società è il passaggio finale dove San Francesco scrive benché vostra signoria non ha necessità di tutte queste cose perché siete scesa da gente di lodabile sangue e dottrina di sapie persone queste parole non sono da intendere soltanto come frasi di cortesia o di buona educazione ma vanno colte anche in riferimento alla famiglia Cesarini di cui due componenti erano stati investiti della porpora cardinalizia il cardinale Giuliano I Cesarini era molto rinomato inoltre con questo passo San Francesco evidenzia naturalmente involontariamente la sua umiltà egli pur sapendo di avere un grande ascendente nei confronti della Cesarini e nei confronti della nobiltà romana però usa sempre toni dimessi e privi di superbia il terzo elemento che è quello che appunto fa leva su quella espressione sulla santità della vedovanza ci permette di desumere che il paulano era un conoscitore della cultura e del pensiero teologico e religioso del suo tempo ieri si parlava dell'istruzione di San Francesco certamente non sappiamo quale sia stata la sua istruzione però ci sono degli elementi che fanno capire che non era una istruzione bassissima questo riferimento alla santità della vedovanza è un riferimento che fa parte della predicazione di alcuni francescani del medioevo e mi riferisco in particolare a Giberto di Turnai e Bernardino da Siena che le loro prediche esaltano la vedovanza come stato in cui è possibile fugata ogni vanità del mondo è possibile dedicarsi totalmente a Dio e quindi il paulano indica la santità della vedovanza come stato in cui è possibile praticare in modo totale la vita penitenziale che da lui era portata avanti a tal proposito dando per assunto che lo dobbiamo dire così per com'è nella mentalità medievale la donna era considerata un essere debole che aveva bisogno di necessità della protezione per necessità della protezione o di un uomo o della chiesa quindi o aveva bisogno di un uomo o di un casato che la proteggesse o di un monastero che la aiutasse nella vita per spiegare meglio questo concetto della santità della vedovanza mi soffermo sui concetti divulgati dai due predicatori francescani che prima menzionavo le vere vedove e che sono desolate cioè che è tagliato il marito da lei poiché ella ha perduto il mondo volti ogni sua faccenda a dio e a lui pensi il dì e la notte levati dal mondo e attaccati a dio così predicava san bernardino la vedova che per la morte del marito è dispensata dal dover perseguire gli ingranaggi mondani della società e si noti come il marito viene inteso come chiave di accesso per la società deve togliersi quindi la vedova dal mondo per attaccarsi al dio il suo esempio di virtù è la profetessa Anna che rimane vedova che è rimasta vedova non si allontana mai dal tempio e serve dio con digiuno e preghiere la profetessa Anna afferma il senese vecchissima del corpo non già vecchia dell'anima non bastandole il digiuno che prima faceva ma ora in digiuni vigili e astinenze più che mai ed aveva più delizia di quello stato che di quello di prima conoscendo essare migliore che essare stato di matrimonio e per certo egli è così che una vedova sapendosi mantenere bene ella è mezza religiosa Gilberto di Turnai poi predicando sullo stesso argomento afferma che la condizione vedovile è superiore a quella coniugale e proseguendo così faceva riflettere le donne sull'argomento dicendo pensa che non sei più sottomessa a tuo marito puoi svegliarti presto e dedicarti alle preghiere del mattino e di notte proprio nelle ore in cui solevi dormire accanto a tuo marito riscatta con digiuni preghiere ed elemosine i piaceri di un tempo lo stato vedovile lì dove l'età e la condizione sociale e i doveri della donna verso la prole e la famiglia di appartenenza lo permettevano era la condizione idonea per abbandonare i fasti e i lussi che si imponevano nello stato coniugale c'è un passo di Gilmerdo di Dunai che dice digiuni in continuazione la nostra vedova che ha seppellito ogni piacere nella tomba del marito il volto pallido e l'abito del lutto siano i suoi ornamenti la mollezza della piume non riscaldi più le sue giovani membra il calore del bagno non ecciti più il suo sangue così predicavano così scrivevano basti queste pochi accenni per comprendere come quella semplice espressione sullo stato di vedovanza ci permette di captare due informazioni la prima è che Angela Cesarini nel 501 era una donna in età avanzata infatti il paolano sta escludendo la possibilità di seconde nozze che erano previste nei casi di vedove molto giovani anche con prole di precedenti matrimoni per rinforzare i casati da cui provenivano e la seconda è quella data in apertura cioè si restituisce l'immagine di un San Francesco che conosce la cultura teologica il pensiero teologico del suo tempo se non magari in modo approfondito però lo conosce andando avanti si rileva un San Francesco che conosce il valore degli oggetti di pietà come promotori della preghiera di devozione e di vicinanza spirituale mi riferisco alla catena di paternostri cioè al rosario e alla candela benedetta che invia San Francesco ad Angela Cesarini sappiamo come il rosario per San Francesco è molto importante e lo vediamo soprattutto nella terza regola che scrive per i terziari minimi dove li invita a recitare il rosario quali sono i collegamenti che si possono vedere con le altre fonti minime e che ci permettono anche di avere un riscontro di autenticità di questo testo il primo è le concordanze che ci sono con le regole del primo ordine ovvero quella frase che dicevo prima circa l'essere stranieri e pellegrini che riprende il capitolo sesto della prima stesura della regola dei frati dove San Francesco scrive pertanto i frati non posseggono nulla in proprio né case né campi ma si considerino pellegrini e forestieri in questo mondo al servizio del Signore e poi più avanti al capitolo settimo quando si quando si parla di si osservi pure sempre con carità che tutti coloro che il cielo visita con continuo naturale languore siano benegnamente alleviati essi però che sono così visitati dal cielo gioiscano e rendano grazie per il tempo concesso ancora loro per fare penitenza quindi questo è il raffronto che abbiamo con quel concetto che le avversità e le malattie sono visita dal cielo visita di Dio le concordanze con i processi di canonizzazione che è quella di benedire distribuire rosari e candele benedette ci sono ben due testi che ci confermano in questo e sarebbe il testo 17 del processo turonense la signora Giovanna moglie di Giovanni commerciante di Tur che dice che questi il frate cioè fra Francesco le inviò una candela e una corona del rosario della Vergine che consegnò alla sofferente raccomandando di recitarla lei o chi per lei per la necessità per cui San Francesco era stato interpellato e poi il testo 21 sempre del processo turonense la signora Olivia sempre moglie di un commerciante di Tur che dice di aver venduto a casa sua ai frati del suddetto convento il convento di Tur in diverse occasioni molte corone del santo rosario del valore di 100 franchi perché il defunto li benedicesse e le distribuisse ai fedeli che ne facevano richiesta abbiamo poi il riscontro sempre con i processi dell'utilizzo frequente della sacra scrittura non leggo ma sono e non leggo i testi ma è il teste 4 del processo Cosentino il signor Francesco Florio e il teste dodicesimo del processo turonense che affermano questa cosa poi abbiamo un terzo riscontro con i processi è quello di confortare gli afflitti e in particolare c'è proprio un riferimento a San Francesco che consola una donna rimasta vedova a Tur quindi c'è conferma di questo pastorale verso di consolazione degli afflitti che aveva San Francesco poi abbiamo la concordanza con altra documentazione questo è riferito sempre alla sacra scrittura e sarebbe il dispaccio del bendedei di cui più volte si è fatto menzione nelle relazioni precedenti il secondo testo è la missiva a Paolo Morgani e Angela Cesarini che si inquadra nello stesso contesto storico di prima ovvero quello della costruzione dell'eremo della Santissima Trinità in Roma quindi il primo convento dei minimi nella città di Roma in questo caso la lettera è scritta anche e indirizzata anche a Paolo Margani e Angela Cesarini per Angela Cesarini basti quanto ho detto prima per Paolo Margani soltanto piccoli accenni perché poi domani il professor Quaranta ne parlerà Paolo Margani figlio di Stefano Margani e di Angela Cesarini di cui non conosciamo né data di nascita né data di morte la data di morte sì è del 1508 sappiamo però che era si è sposato in data non conosciuta con Jacobella II Caetani da cui ebbe un unico figlio Pietro Ieronimo che sposò Giulia Colonna che morì poi nel 1519 riporto questo fatto del matrimonio con i Colonna perché ritengo sia importante per comprendere quello che è stato l'effetto la storia degli effetti della lettera di San Francesco sottolineo questo aspetto anche per quanto riguarda la famiglia Orsini il legame più diretto ai tempi di San Francesco che c'è tra Paolo Margani e la famiglia Orsini è proprio quello che si costruisce tramite il matrimonio con Jacobella II Caetani sorella di Nicola Caetani a sua volta sposo di Eleonora Orsini che a sua volta era sorella di Gentile Vigilio Orsini sembra una catena però è importante comprenderlo perché questo rapporto è importante perché ci permette di ipotizzare un altro canale di comunicazione tra i Margani e i Cesarini e San Francesco questo aspetto è importante per sottolineare questo aspetto è importante una lettera di Francesco Colonna barone di Palestrina indirizzata a Gentile Vigilio Orsini conservata presso l'archivio capitolino di Roma ovvero l'archivio Orsini in questa missiva del 12 settembre 1494 ovvero nel frangente dell'imminente scesa in Italia di Carlo VIII il Francesco Colonna racconta i fatti da poco accaduti e manifesta all'Orsini dei dubbi circa la fedeltà di alcuni uomini ciò che ci interessa è quello che viene detto circa Paolo Morgani che viene inviato a Genazzano dove si afferma per certo che ha incontrato l'ambasciatore del re di Francia questa testimonianza ci permette allora di ipotizzare un legame anche di sola conoscenza tra i Margani e l'ambasciatore di Francia una conoscenza che potrebbe essere un canale di scambio di missive tra San Francesco la famiglia Margani e i frati del Pincio un secondo motivo importante di questa parentela tra i Margani e gli Orsini è quello di scorgere appunto come dicevo gli effetti della missiva del Paolano infatti in chiusura di lettera la seconda missiva San Francesco chiede ai destinatari di continuare nelle opere di carità verso il costruento convento del Pincio così da essere di testimonianza e sprone verso gli altri componenti della nobiltà romana considerato che Paolo era l'unico figlio di Stefano e di Angela Cesarini è lecito pensare che quest'ultimo fece leva sulla parentela acquisita nel matrimonio con Giacobbella II Orsini e un riscontro che avvalora questa ipotesi la ritroviamo nella documentazione redatta in occasione della visita canonica dell'eremo della Santissima Trinità nel 1629 nella verifica che i visitatori fanno delle cappelle laterali della chiesa circa la loro assegnazione ben 4 cappelle su 16 risultano affidate a componenti della famiglia Orsini e tra questi una risulta affidata a Monsignor Aldo Brando Orsini arcivesco emerito di Nicosia fin dal 1526 passando al contenuto della lettera naturalmente questa missiva ha un tono differente rispetto a quella prima analizzata in quel contesto trasferiva con l'eloquenza il tono e la caratura spirituale del mittente in questo altro testo si registra invece un carattere più spirituale più sfumato nascosto dietro un registro più convenzionale ma non formale differenti sono le motivazioni che spingono il paola a redigere la missiva nel primo caso si vuole ringraziare per la carità ricevuta ma soprattutto si vuole prestare conforto per il lutto nel secondo caso permane lo scopo di ringraziare per la carità ricevuta ma emerge soprattutto la richiesta di aiuto parafrasando fatevi promotori con gli altri nobili del vostro rango per questo nostro convento questa motivazione che può essere desunta appunto dalla frase di chiusura del testo è una lettera ex novo lo capiamo dalla chiusura perché mentre nella prima missiva San Francesco manda una corona e una candela benedetta che solitamente San Francesco dava in risposta a una lettera o comunque a una richiesta di intervento in questo caso non si manda nulla quindi possiamo pensare che sia una lettera che non ha una missiva in precedenza di Paolo Margani poi possiamo ipotizzare che la lettera il latore della lettera il portatore della lettera sia appunto il padre Binet considerato che il padre Binet fu mandato a Roma per la costruzione per guidare la costruzione dell'eremo vado avanti perché mi interessa sottolineare soprattutto la terza missiva che è quella che ha un carattere totalmente diverso e che ha un'importanza storica per me maggiore non disprezzando queste altre due lettere perché ci permette di ricostruire seppur con diversi coni d'ombra quella che era la procedura che San Francesco metteva in pratica per la costruzione di un convento mi riferisco alla lettera indirizzata a Jean Deschambres datata il 23 maggio 1505 questa lettera l'unico testimone di questa lettera è contenuta all'interno del Minimologium Turronense e sono convinto che uno studio approfondito del Minimologium Turronense può ulteriormente illuminare questo testo e le vicende di questa testa e di questa lettera è del possibile convento che i Minimi hanno avuto o hanno abbandonato presso il castello di Montser sulla Loira la lettera come dicevo è indirizzata a Jean Deschambres signore e barone di Montser che nacque nel 1445 o 46 e morì tra il 1515 e il 1518 questi sposò nel 1490 Maria de Chambrian perdonate il mio francese dalla quale ebbe tre figli Philippe Hippolyte e Louise era parte appunto del nobile casato dei Deschambres originario del ducato di Angois e tra le più nobili e importanti famiglie del regno di Francia in particolare era figlio di Jean II di Chambres e di Jeanne de Chabot è importante questa relazione padre figlio perché Jean III eredita dal padre non soltanto tutti quelli che sono i beni immobiliari e quindi anche i beni liquidi d'oro e d'argento ma eredita una posizione all'interno del regno Jean II incomincia la sua carriera all'interno del regno di Francia da scudiero del re guardia del corpo del re e arriva ad essere consigliere personale del re oltre che aver avuto diversi incarichi diplomatici presso il papa la repubblica di Venezia e l'impero ottomano poi questi rapporti importanti con Luigi XI furono consolidati quindi Jean III eredita sì tutto il patrimonio ma eredita soprattutto una posizione importante posizione importante che continuerà ad avere durante il regno di Carlo VIII e i regni successivi e i regnanti successivi ciò che mi interessa focalizzare è un desiderio che nutriva questo signore di Montsor che sta alla base della lettera di San Francesco il desiderio era quello di fondare attestato da varie fonti era il desiderio quello di fondare un convento presso il suo castello sulla Loira Jean de Chambre non riuscirà a dare seguito a questo suo desiderio sarà soltanto la moglie nel 1519 a fondare la collegiata della Santa Croce perché è importante questo desiderio perché San Francesco nella sua lettera che ha degli elementi dal carattere epistolare ma che soprattutto ha il registro e la forma di un compromesso San Francesco accetta una donazione di questo signore l'accetta tra l'altro vincolandola alla ratifica del capitolo generale che si sarebbe dovuto celebrare a breve quindi noi da questa lettera sappiamo già che San Francesco nel 1505 sta incominciando a preparare gli argomenti che poi secondo lui dovevano essere trattati nel capitolo generale quindi siamo ben due anni prima rispetto a quello che poi sarà la celebrazione che avverrà a Roma questa lettera questo atto di ricezione di questo lascito da parte di San Francesco non avrà nessun seguito quindi noi non sappiamo o meglio padre nelle note che padre Rocco fa a questo testo si dice che i minimi non si staurarono mai all'interno nel 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 castello di Monsard noi questo non lo sappiamo perché alcune espressioni della lettera fanno intendere che San Francesco accetta già c'era stato una doppia un doppio momento una prima accettazione verbale dove Jean de Chambre aveva manifestato qual era il il suo interesse anche seguendo quelli che erano i desideri della madre e del padre che già erano morti quando San Francesco arriva in Francia dove Jean de Chambre dicevo aveva manifestato il suo desiderio e dove Jean de Chambre aveva anche dichiarato ufficialmente quali erano i beni che dava in dote al convento per la sussistenza San Francesco dice io li accetto a nome mio e a nome dell'ordine poi si dice avanti anche la fondazione che voi avete voluto fare e che io anche voglio fare quindi sembra quasi che i minimi dopo questo documento si siano spostati abbiano iniziato il loro lavoro presso il castello di Montser e poi possibilmente considerato che San Francesco aveva vincolato tutto alla ratifica del capitolo generale che doveva essere portata secondo il testo della missiva in copia originale al signore di Montser entro tre mesi dalla celebrazione del capitolo sappiamo che il capitolo generale del 507-8 ha avuto altri interessi altre problematiche da risolvere non ratificarono questa questo atto fatto da San Francesco quindi molto probabilmente i minimi andarono via non sappiamo perché possibilmente oltre per la morte di San Francesco anche perché padre Binet era stato eletto padre generale quindi non stava più in Francia ed era uno magari dei garanti per i signori di Montser per il figlio di Jean Troyes e perché anche padre Bernardino da Copralati era stato spostato in Italia quindi non stava più lì padre Bernardino che è uno dei firmatari di questo documento credo che questo testo sia molto importante sia perché ci permette di ricostruire quella che è la fase iniziale della fondazione di un convento ma anche perché ci permette di comprendere il motivo uno studio più approfondito ci fa spiegare perché San Francesco vincola tutto al capitolo generale per gli altri conventi il capitolo generale che era una istituzione prevista già nella prima regola non viene tenuto in considerazione il primo capitolo generale viene celebrato molti anni dopo il pensiero appunto la prima regola dove già è previsto non viene tenuto in conto per gli altri conventi mentre per questo convento viene vincolato tutto al capitolo generale ecco vedo che l'orario già è passato quindi mi fermo qui però sono sicuro che uno studio del Minimologium Turonense uno studio più approfondito possa dare luce a questo altro convento che non sappiamo se è esistito o no prego certo vuoi farlo adesso sì una domanda esiste la minimospedia padre promesse che è in continuo aggiornamento dal punto di vista spirituale esiste per esempio io voglio trovare un argomento l'argomento della letta del San Francesco si può accedere? con la provincia di Napoli Santa Maria della Stella ah no sul Minimospedia non lo so però con la provincia di Napoli stiamo realizzando un piccolo vocabolario minimo dove lemma per lemma oltre che dare una piccola spiegazione di quell'espressione si fa riferimento anche alla bibliografia legata a quel lemma quindi dove andare a prendere le informazioni riferite a quell'emma sono contento che esista questo anche dal punto di vista liturgico perché mi sono trovato il 20 gennaio a Stavolta delle Fratte in cui avevo una visita portellata e sono vado a trovare una donna che è caldo sono a Roma ci credete che al Vespro sta povera gente non riusciva a dire il Vespro e cercavano sul web e se l'è andata l'8 dicembre che trovate il Vespro perché tale e quale cioè queste cose non dovrebbero succedere ho finito ci stiamo lavorando sono contento per farlo sì certamente il padre Prunesse ha un intento diciamo più che altro storiografico di fatti la buona parte del contenuto del suo sito è dedicato proprio a un listato di nomi di autori e di località non per la storia dell'ordine e anche documenti poi i documenti veri e propri anche liturgici magari attuali credo che no insomma va bene quindi anche questa mattina abbiamo avuto modo di apprendere tante cose veramente interessanti in relazioni meritevoli del nostro corale apprezzamento oggi pomeriggio come già avete visto nel programma saranno due appuntamenti per Monsignor Morosini due relazioni e poi l'ultima relazione della giornata è quella di padre Paolo Raponi sul San Francesco che concede alcune partecipazioni spirituali all'ordine questo credo sia un argomento anche che non è stato quasi mai trattato quello cioè di parlare di queste partecipazioni spirituali che si facevano con questi documenti veri e propri importanti quindi oggi ne sapremo qualcosa in più va bene per ora basta ci vediamo oggi pomeriggio bravo complimenti grazie a tutti